Inizierà lunedì 2 novembre e andrà avanti fino a giovedì 12 la raccolta delle domande per i bonus spesa, bambini e blocco attività destinate le famiglie pesaresi in difficoltà economica ai bambini e ragazzi fino a 14 anni e all'attività più colpite dall'emergenza Covid-19. Una misura attivata dall'amministrazione pesarese dopo lo stanziamento di un milione di euro da parte del Governo al Comune e che si distingue in tre diversi rami. Il bonus spesa è rivolto a 1.500 famiglie pesaresi in difficoltà. L'amministrazione, che ha destinato 300.000 euro per tale misura, si pone l'obiettivo di consegnare 200 euro a ciascuna di loro. In caso di domande in esubero sarà data priorità alle famiglie numerose e a quelle che pagano il canone d'affitto o il mutuo della prima casa. Possono farne richiesta le famiglie di un componente che hanno percepito nel mese di ottobre 2020 un reddito inferiore agli 800 euro, quelle di due componenti con reddito inferiore a 1.000, di tre o quattro componenti con reddito inferiore ai 1.200 euro e quelle con cinque o più componenti e reddito inferiore a 1.500 euro. Il bonus, che sarà consegnato sotto forma di buono spesa dal valore di 10 euro ciascuno, potrà essere speso in negozi della città per l'acquisto di beni di prima necessità e alimentari. Alla lista di attività in cui poter usare i voucher sono state aggiunte anche le realtà che effettuano servizio d'asporto e quindi attività di somministrazione cibo e bevande. Le domande potranno essere compilate sul sito del comune di Pesaro. I buoni saranno consegnati dal 16 al 22 novembre dai volontari dei quartieri direttamente nelle abitazioni dei beneficiari e saranno spendibili fino al 31 gennaio 2021. Il bonus bambini è l'operazione più importante messa in campo dall'amministrazione, che ha destinato a tale intervento 600.000 euro. Si rivolge a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni. Ciascuno di loro riceverà 100 euro in buoni spesa. I voucher con valore di 10 euro potranno essere spesi in bene attività formative utili alla crescita. Spese di istruzione e formazione, come per esempio il pagamento delle quote per nidi, scuole dell'infanzia, mense, materiale didattico, libri, trasporti, computer e altro ancora. Oppure prodotti per la prima infanzia e tempo libero. Non potranno fare domanda del bonus le famiglie che hanno percepito un reddito netto superiore a 4.000 euro nel mese di ottobre. Nel caso di numero di domande superiori rispetto alle 6.000 previste, sarà data priorità ai nuclei familiari con il reddito più basso. Anche in questo caso le domande potranno essere compilate sul sito del comune di Pesaro. I voucher saranno recapitati dal 16 al 22 novembre nelle case dei beneficiari e potranno essere utilizzati fino al 30 aprile 2021. Per agevolare i cittadini che usufruiranno dei bonus pesa e bonus bambini 0-14 anni, l'amministrazione ha deciso di stilare due liste delle attività economiche che accetteranno i voucher. La prima comprenderà le attività che accetteranno buoni sociali alimentari. Nella seconda lista invece verranno inseriti i negozi che riceveranno i bonus per la crescita. Gli esercenti che accetteranno bonus spesa e bonus bambini 0-14 anni dovranno comunicare la propria adesione scrivendo la mail spesa.domicilio-chioccelacomune.pesaro.pu.it o chiamando il numero 0721 387 213 entro il 14 novembre. Gli operatori commerciali, una volta ricevuti i voucher, dovranno chiedere il rimborso compilando il modello predisposto dall'Uppicio Attività Economiche, scaricabile sul sito del Comune di Pesaro, e presentandolo, entro il mese successivo a quello della spesa effettuata dal cliente, al Servizio Attività Economiche di Via Manzoni. Le due liste di attività che aderiranno al progetto verranno pubblicate nel sito del Comune e saranno aggiornate costantemente. Infine, il bonus blocco attività è rivolto all'attività del territorio comunale più colpita dall'emergenza Covid-19, sia durante sia dopo il lockdown. Nello specifico si parla di tutte quelle imprese che hanno registrato un calo di fatturato superiore all'80% rispetto al 2019. L'amministrazione ha destinato a questa misura di intervento 100.000 euro, ponendosi l'obiettivo di distribuire 1.000 euro a ciascuna ditta. La domanda per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.pesaro.emarche.it. A parità di requisiti sarà data priorità alle aziende dei settori più colpiti durante e dopo l'emergenza Covid-19 e in caso di ulteriore condizione di parità verrà valutata la data di arrivo della domanda al protocollo del Comune di Pesaro.